Ammazzano la gente, ammazzano la terra, lo saremo venti per la vostra guerra. Ammazzano la gente, per la vostra guerra, ammazzano la gente, per la vostra guerra. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Ci troviamo in una giornata di mobilizzazione nazionale in cui in tutta Italia ci sono mobilizzazioni. Se questa è la vostra risposta, se voi ci chiedete la cosa che fate, questa è una rappresentazione di quella università. No, questo è letteralmente il modo in cui l'università si pone di fronte agli studenti che sono in mobilizzazione in tutta Italia. Oggi la giornata è in sciopero nazionale e voi dovete concederci questi incontri. Il rappresentante ufficiale dell'Ateneo è la rettrice, quindi io non posso né rispondere per conto suo eccetera eccetera. Quindi mi sono informato, gentilmente, gentilmente vi dico che è in arrivo ma dovete aspettare. Le persone si muovono eccetera e non è il posto adatto, quindi voi state rappresentando, fatelo in piazza giustamente, il comune ha dato l'autorizzazione, non dico nulla, ma non può essere esattamente nel corridoio del rettorato. Tanto la conoscete, la intercettate e poi delle iper conseguentemente... Ci siamo qua a sud di manetta tranquillamente? No, no, no. Certo. È una situazione di emergenza. Ho capito, ma però siete delle persone civili. Ma sono sei mesi di genocidio. Se non ci siamo noi qua a parlare, se rimane nel silenzio nulla accade. Intanto stiamo tranquilli, abbiamo detto che la rettrice quando arriva, questo lo lasciamo giù.